Gentili telespettatori, buona giornata. Non si può ascoltare. Tabacci a caccia di voti per Conte e dice pure dobbiamo dir messa con i frati che abbiamo. La tristezza si infonde nell'aria in maniera assoluta. Tabacci direttamente dalla Prima Repubblica come Mastella ad aiutare Conte a cercare mercenari, ovviamente per un suo tornaconto personale, magari spera di diventare ministro, onorevole. Le manovre del negoziatore centrista che ogni mattina dice il rosario prima di uscire di casa. Non è uno scherzo, è tutto vero. Oggi lavora per costruire il gruppo dei mercenari per salvare il Giuseppi II. Fa parte del gioco. Questo è quello che sta. Cerca pecorelle, pecorelle smarrite, irresponsabili, cioè dei vivi mercenari. Beh, portamene più che puoi, lo ha implorato Giuseppe Conte, possibilmente prima di mercoledì. Beh, Tabacci finora ne ha trovati 13 alla Camera. Insomma. Ma per formare un gruppo, per legge, servono 20 deputati per formare un partito alla Camera. 13 non sono sufficienti. E poi troppo pochi al Senato, dove i numeri della maggioranza sono esigui. La ricerca dei mercenari affidata a quest'uomo di 74 anni, puntiglioso, osterio, stimato, fondatore di numerosi partitelli dopo essere sopravvissuto alla scomparsa della balena bianca. Beh, può apparire meno mortificante, invece deve essere chiaro che anche lui sta cercando gentiluomini del tipo Razzi o Scilipoti o l'ultima New Entry, quello Ciampolillo, no? Quello che insapona gli olivi. Tabacci va in giro a blandire, promettere, convincere, si è appassionato alla causa che l'ha riportato sui giornali ed è quindi instancabile, mattiniero, fino all'estremo. Beh, prima fa il rosario e poi esce dalla sua abitazione romana. Vabbè, insomma, continua a lavorare per telefono i tabacci. Per trovarlo libero devono passare almeno 20 minuti. Sta cercando i mercenari. Beh, chi l'ha intervistato dice, sì certo, stiamo lavorando per allargare la maggioranza, naturalmente. Non mi sfugge che i tempi sono ormai stretti. Mercoledì o giovedì al Senato si voterà la relazione di Bonafede sulla giustizia. Un passaggio che rischia di essere fatale, dice, poiché la materia è molto delicata. Io penso che sia anche compito del ministro trovare un linguaggio adeguato, condivisibile. Poi sa. Quello che dico io è qualsiasi cosa dica Bonafede ci sarà il no delle opposizioni. Non è nei contenuti, è per la crisi. Senta, dice Tabacci, è semplice. Se il governo non si rafforza il voto è inevitabile. Ma lei sta lavorando perché questo non accada? E lui dice, beh, io credo che puntellare la maggioranza sia possibile, anche se ovviamente serve un ventaglio di forze più ampio, il rimpastino non basta. Però sia chiaro, non c'è alternativa al nome di Conte. Beh, ovviamente nel rimpastino rimpastone entrerebbe anche lui, ovviamente. Magari un bel posto da ministro. Ministro Tabacci, lei cosa ne pensa? Eh, che ne dite? Beh, su un terzo governo Conte dice, io leggo la politica per come l'ho imparata. Dice, certo che immagino un governo Conte III e lui, aggiungo, è l'unico punto di equilibrio possibile che abbiamo in questa legislatura. I 5 stelle tengono solo attorno al suo nome. Li puoi far rimanere compatti solo se gli dici facciamo una cosa nuova, ma la facciamo con Conte, che resta premier. Insomma, dobbiamo dire messa con i frati che ci sono. E su Italia Viva Tabacci dice, ho la forte sensazione che qualcuno di loro abbia posizioni meno, ostili, diciamo più concilianti del loro capo. Poi ci sono anche pezzi liberal democratici di Forza Italia e un governo volendo. Si mette su. Ma il governissimo, dice, una sciocchezza totale, il governissimo. Dice, no, scusi, con chi lo facciamo il governissimo? Con la Meroni che spara bordate ogni minuto? Oppure con Salvini? No, escluso, dice, ed escludami, creda pure l'ipotesi Draghi, perché il nome di Draghi non è sul tavolo, è una bufala di Renzi. Beh, la metafora dei frati grillini con cui necessario dir messa appare davvero efficace. Insomma, Tabacci si iscrive alla DC Democrazia Cristiana nel 1964. Facevano le riunioni del direttivo nella sacristia della parrocchia di Quistello, Mantua, sotto lo sguardo del parroco Don Enea, un prete all'antica con la tona che è una bella sparata di bottoni, come se non se ne vedono più. Da quando il clero marcia in Glerimène e Maglione, quando ci fu la battaglia sul divorzio, Tabacci era contro. Stiamo parlando di un uomo che era parte della battaglia sul divorzio. Stiamo parlando di un dinosauro della politica, rispolverato in fretta e furia perché quelli della prima politica, in confronto a questi personaggi squallidi di oggi, diventano dei grandi luminari della politica, degli interpreti fedeli di come si faceva veramente la politica, di come si cercavano i mercenari e quindi hanno chiamato Mastella, Tabacci e altri residuati della prima repubblica che arrivano in pompa magna, tornano sui giornali a cercare i mercenari per conte, perché quelli di oggi non sanno neanche come si utilizza il telefono per fare una chiamata. Insomma, Tabacci è un personaggione che arriva dal passato, un po' come ritorno al futuro, ritorno al Tabacci. Beh, comunque ha visto tutto quest'uomo, tutto alla Repubblica, la lista praticamente, dal 64 ad oggi, 64, 74, 84, 94, 2004, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 57 anni che è in politica, si iscrive alla DC del 64, 57 anni, diciamo che quello che dice è da prendere seriamente perché una persona che ha 57 anni di politica è tanto di cappello, le cose che dice bisogna prenderle realmente con interesse perché sa quello che dice. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.